Già da qualche tempo ho iniziato ad utilizzare uno strumento che si nasconde tra me e l'obiettivo della macchina fotografica. Anche in questo momento lo sto proprio utilizzando e così come è già successo in passato ad esempio sul video in cui vi parlavo della nuova A7 IV o in quello in cui vi parlavo delle cine lens verso le lenti fotografiche, due video che tra altre cose se volete potete rivedere, beh nessuno si è accorto di questo trucco che stavo utilizzando. Sto parlando del nuovissimo e nascosto teleprompt portatile di Fieldward TP10. Ecco vi faccio vedere una ripresa alle mie spalle così che possiate vedere cosa ho davanti all'obiettivo. Ed ora che in qualche modo ti ho svelato il trucco di questo mio attuale approccio ti voglio rendere partecipe di come esso funzioni nel dettaglio. La cosa più importante è capire i principali vantaggi di questo piccolo ingegno di casa Fieldward. Beh te lo dico per esperienza e proprio per questa visto che mi occupo di realizzare tantissime interviste ogni anno tra i quali documentari, eventi aziendali e altri video di altro genere, ti posso proprio dire che appunto un teleprompt è quanto di più scomodo da portare sui set e soprattutto da montare sul set. Si va sempre di corsa gli intervistati non hanno mai il tempo di stare lì aspettare e il teleprompt necessita purtroppo di un cavalletto molto pesante nonché una piastra o ancor meglio un cage con delle canne di espansione che reggono tutta la struttura e che supportino ne oltre il dispositivo che presenta poi il testo riflesso come un iPad, un telefono eccetera. Di norma appunto si utilizza o l'iPad o il telefono proprio che come state vedendo in questo momento. Come ti dicevo tutto implica un bel po' di tempo e un trasporto di una serie di accessori veramente scomodi e elaborati da montare. Ecco che Fieldward con il TP10 ha fatto veramente ciò che fa un teleprompt professionale ma anche se vogliamo di più di quanto normalmente fa un teleprompt base. Infatti con il TP10 è possibile avvalersi del vantaggio della lettura davanti alla camera così come sto facendo con un semplicissimo sistema di anelli da avvitare all'obiettivo e senza alcun supporto aggiuntivo si può con un click partire a girare e parlare in maniera spontanea soprattutto in maniera concisa e corretta. Come se non bastasse questo semplicissimo e immediato sistema si può adoperare anche se si decide di riprendere con un telefono cellulare. Si possono fare infatti delle riprese con il telefonino e questo teleprompt in sostanza oltre ad essere leggerissimo completo ed immediato nel montaggio ha oltretutto un costo veramente irrisorio incredibile che è un po' alla portata di tutti se paragonato a competitor di altra natura. Chiaramente potresti non crederci a questo punto ti dico vai a vedere i costi di prompt professionali presenti appunto sul mercato paragonali con questo della firmware e vedrai che avrai ottenuto un prezzo incredibilmente basso. A tal proposito comunque ti lascio il link per vedere il costo di questo teleprompt ed eventualmente poi decidere se acquistarlo. Questo teleprompt oltretutto è compreso di un'app gratuita compresa nel prezzo che personalmente ho potuto testare io solo su sistemi Android visto che ho un telefono iOS e che permette grazie a questo comando remoto di fare una serie di cose anche mentre si registra. Tra le varie operazioni chiaramente c'è lo stop, lo stop o il play dell'avanzamento del testo, si può accelerare o decelerare nella lettura, ingrandire o dimensionare diversamente il testo eccetera eccetera. Comunque a breve ti farò vedere tutto questo di cui ti sto parlando. Prima però voglio farvi vedere di cosa si compone il teleprompt e quanto lo stesso è facile portarlo con te dentro la normale zaino, nonché quanto sia facile montarlo direttamente sulla tua camera fotografica. Che cosa contiene la nostra valigia del teleprompt, nostra custodia? Come prima cosa abbiamo il sistema di protezione dalla luce, poi abbiamo questa protezione in gomma che consente di oscurare la visuale dietro all'obiettivo quando si utilizza il telefonino, fra poco vi farò vedere, il telecomando, il supporto per l'iPad o il telefonino che si compone di due accessori che vanno montati a mezzo di una vite da un quarto, poi abbiamo questi due sostegni che consentono di utilizzare il teleprompt piuttosto che con la macchina fotografica con il cellulare, fra poco vi farò vedere come si montano, altre due viti per la gestione in questo senso sempre col telefonino e tutti gli anelli adattatori di tutti i diametri che consentono appunto di avere quindi la possibilità di montare il teleprompt su qualsiasi obiettivo voi abbiate con qualsiasi diametro. Per quanto riguarda il montaggio di tutto il sistema basterà avvitare l'anello adattatore praticamente sulle nostre ottiche ok chiaramente abbiamo diverse misure e poi abbiamo la possibilità qui dietro di come vedete una scala natura che va semplicemente accompagnata introdotta in questa maniera ed ecco qui siamo pronti all'utilizzo tutto il supporto si mantiene e si tiene sull'ottica essendo le plastiche nonché tutto il sistema molto leggero non andrà a inficiare in maniera negativa sull'ottica. Normalmente tutti i teleprompt hanno bisogno di una copertura in stoffa per andare a evitare che si crei l'infiltrazione di luce che poi non ci consentirebbe di vedere all'interno riflessa l'immagine del telefonino perché la parte di dietro deve essere completamente scura. Con il sistema inventato appunto da Filward e l'innesto direttamente sull'ottica abbiamo ovviato a quel tipo di problema e quindi anche in questo è molto più veloce diciamo Filward a fornirci un supporto direttamente pronto senza dover mettere panni o quant'altro. La staffa per alloggiare il nostro dispositivo è adatta sia per il telefono cellulare che per unità più grandi. Qui sotto c'è un pulsantino schiacciando lo stesso abbiamo la possibilità di allungare a dismisura e quindi andare anche sulla misura più lunga per un iPad come potete vedere. Il sistema a molla consente appunto semplicemente di tirare e andare ad alloggiare il telefonino. Il vetro chiaramente può essere inclinato con la finalità chiaramente di avere la giusta visuale e vi posso garantire che comunque si vede perfettamente. Riporlo è veramente semplice. Andremo a staccare il nostro telefono o semplicemente schiacciamo questo pulsantino, stacchiamo la parte diciamo che mantiene il telefono e questa può essere riposta in questo modo oppure eventualmente stacchiamo e abbiamo velocissimamente il supporto da poter riporre all'interno del nostro zaino o ancor meglio chiaramente all'interno della custodia che abbiamo in dotazione. Come vedete quindi ho semplicemente staccato questo, questo e sono pronto a riporre. Il sistema può essere riposto facilmente all'interno della custodia in questo modo, chiudo praticamente il tutto, poso questo qui e in un batter d'occhio sono pronto a portare con me il tutto, la valigetta. Montare il teleprompt è semplicissimo, basterà prendere questo supporto, inserirlo in questo modo, a questo punto aggiungeremo la nostra copertura per la luce che ha il suo strap, quindi basterà agganciarla, bene e qui dietro sceglieremo il giusto diametro per la nostra ottica che monteremo sull'ottica stessa e il gioco sarà fatto perché basterà poi incastrare l'ottica qui dietro e siamo pronti. In alternativa possiamo utilizzare il teleprompt con il cellulare per riprendere. Come andremo a alloggiare questo telefono? Beh, possiamo farlo in verticale con la telecamera, chiaramente che riprende in questo modo, oppure in orizzontale. Semplicemente andremo ad utilizzare questo supporto e questo. Per quanto riguarda la possibilità di riprendere con il telefono, ecco il montaggio per la modalità orizzontale. Si prendono questa staffa che va inserita nella guida e il supporto per agganciare il telefono, in questo modo. Poi abbiamo la gommina che va inserita sull'anello con il diametro 72. Lo telefono toccherà perfettamente questa parte e quindi basterà montarli in questo modo. Alternativa può essere la ripresa addirittura verticale e Fillward ha pensato anche a quella. Non utilizzeremo questa slitta ma bensì questa. Quindi basterà inserire in questo modo e in uguale maniera, una volta inserito la gomma qui intorno, dovremo semplicemente, quindi andremo semplicemente ad inserire il telefono fino a far coincidere il buco della camera, l'obiettivo della della camera con l'incavo appunto. Ebbene ora che vi ho mostrato come montarlo vediamolo all'opera e cerchiamo di capire come funziona l'app che è messa a disposizione da Fillward e a tal proposito vi lascio il link per il download sia in ambito iOS che in ambito Android. Ed eccoci qui, ho già scaricato l'app, si chiama Fillward. La prima cosa che vediamo quando parte è tutto l'elenco dei testi che sono già stati programmati e pronti per essere riprodotti. Qui sul tasto in basso abbiamo un più che sta ad indicare chiaramente un nuovo inserimento di testo, basterà andare su titolo e inserire il titolo e su content per inserire i contenuti. Molto semplice, chiaramente potete anche copiare e incollare i contenuti direttamente da un documento che avete preparato o da qualche altra parte. Una volta fatto questo basterà cliccare sul titolo, sul contenuto appunto del che avete appena creato ed ecco qui che avete a disposizione il teleprompt pronto per partire. Come si fa? Chiaramente potete fare anche da un touchscreen, qui dal touchscreen c'è il simbolo di play, eventualmente avete qui sotto la possibilità di entrare nelle impostazioni e cambiare tutta una serie di cose che adesso vedremo o tornare indietro nella selezione appunto del testo. Vediamo come gestire l'app. Intanto esiste il telecomando che per essere utilizzato deve essere semplicemente connesso al dispositivo a mezzo della connessione bluetooth, quindi dovrete abilitare il bluetooth sul vostro telefono per selezionare Fillword 03. Ecco qui basterà cliccare qui, connettersi e a quel punto siete online. Chiaramente stiamo vedendo le impostazioni su telefoni apple ma ripeto la stessa cosa può essere fatta con android. A questo punto siamo pronti per partire e dal telecomando è possibile fare una serie di cose. Molto velocemente questo non vuole essere un help di utilizzo ma insomma un'illustrazione su come funziona tutto il sistema. Qui su abbiamo un tasto superiore che serve a far partire o stoppare il nostro testo. Questo risulta essere molto comodo quando siamo in esecuzione, insomma che stiamo parlando, e a un certo punto vogliamo aggiungere dei contenuti e quindi stoppiamo, aggiungiamo dei contenuti che magari ci vengono spontanei e poi ripartiamo. Oppure quando stiamo in ritardo nella lettura. A tal proposito qui con la rotellina, con i joystick, possiamo anche decidere di rallentare andando giù, vedete, fino a fermarci oppure proseguire verso l'alto e in questo modo andiamo a velocizzare e non di poco il testo. Quindi possiamo controllare proprio in questo modo man mano che stiamo parlando. Viceversa possiamo sempre con il joystick andare verso sinistra per diminuire la grandezza del fonte o verso destra per aumentare a dismisura la grandezza del fonte se ci vediamo male. Tutto questo chiaramente è possibile farlo anche con l'iPad collegando lo stesso qui sul supporto. Quindi procedendo abbiamo a disposizione il tasto di accensione spegnimento che è il seguente. Ci permette di spostarci da questo pannello di composizione a quello appunto di esecuzione dei testi e nonché resettare e quindi riposizionarci all'inizio del testo. Su quest'altro tasto lato destro abbiamo la possibilità di andare a aprire il menu contestuale per la configurazione delle impostazioni che vedremo fra poco. In alto abbiamo varie possibilità di visualizzazione del testo che si contraddistinguono e che possono essere utilizzate con sfondo nero, testo bianco, viceversa il contrario quindi testo nero, sfondo bianco o questa modalità di colorazione o eventualmente testo rosso e sfondo bianco, l'azzurrino su, insomma varie modalità di visualizzazione. Tasto laterale sinistro adesso non lo vediamo ma vi faccio vedere che cosa fa, mette in loop, qui abbiamo loop mode, ecco che si abilita o disabilita la possibilità di andare in loop di un testo che scrolla, cioè una volta che sarà arrivato alla fine lui ricomincia da capo. Il tasto laterale destro invece consente di posizionare il testo in questa modalità, quindi utilizzare il telefono in modalità classica, quindi verticale, orizzontale, mentre invece il tasto in basso consente di flippare le scritte. Quando è che utilizziamo questa modalità? Beh, normalmente avremo questa necessità perché la riflessione sul monitor chiaramente deve essere inversa e quindi quando utilizziamo il dispositivo per essere il riflesso sul nostro monitor dovremo essere in questa modalità. Se invece lo stiamo utilizzando per leggere e fare un esercizio senza ancora utilizzarlo il riflesso sul monitor, chiaramente lo vedremo normale così come siamo abituati a vedere il telefono e quindi avremo la scritta normale. Fondamentalmente questo è il comando andiamo velocissimamente a vedere i comandi che sono disponibili qui sul pannellino diciamo di configurazione e abbiamo un po' tutto quello che abbiamo già visto, ovvero la possibilità di zoomare o cioè di velocizzare o rallentare il testo, l'esecuzione del testo che abbiamo visto si poteva fare da il tasto appunto del joystick. Oppure la grandezza del font, se lo andiamo a ingrandire vedremo appunto più grande o più piccolo come potete vedere. Poi abbiamo i margini, quando vediamo le scritte tendiamo a guardare dal lato sinistro verso lato destro e quindi leggermente potrebbe vedersi sul nostro obiettivo che non stiamo guardando perfettamente al centro. Quindi il mio consiglio è quello di metterlo non dico al massimo ma poco ci manca in questo modo. Avremo meno spazio di interlinea però insomma fondamentalmente almeno vediamo bene al centro e sembra che stiamo guardando proprio l'obiettivo. Ancora abbiamo tutte le colorazioni che abbiamo già visto precedentemente, il mirror mode che è quello che abbiamo già visto sul telecomando, il loop mode che vi ho detto e il portrait display che consente di girare in questa modalità il testo. Chiaramente potete con lo scroll sul display del telefono stesso andare indietro avanti e riposizionarvi nel punto di vostro interesse. Ragazzi in conclusione credo sia arrivata e sia stata percepita la versatilità ed il costo vantaggioso di questo eccezionale strumento di lavoro che chiaramente è adatto non solo a chi fa video come me in questo momento ma anche chi ha la necessità di risolvere quelle fastidiose interruzioni di intercalare e quindi cioè che chiaramente sono inadatte e diciamo poco corrette in un'esecuzione appunto di registrazione. Chiaramente questo accessorio è adatto anche a chi realizza lavori in cui ci sono clienti che potrebbero andare molto più veloci e organizzati nel esporre dei concetti che a volte sono difficili da riassumere. Personalmente credo che si debba imparare anche a stare davanti alla camera o quantomeno a saper leggere senza far percepire che questo sta avvenendo ma per questo non c'è tecnologia che regga bisogna assolutamente imparare, fare pratica e riuscire poi nell'intento. Cosa avrei migliorato di questo TP10? Beh sinceramente direi veramente poco ma forse l'unica pecca è che avrei migliorato un po' le plastiche che lo compongono che sembrano un pochino leggere e forse non di massima qualità. Per il resto posso dire grande firmware e anzi grazie alla stessa casa per avermi dato la possibilità di potervi illustrare questo TP10 a voi. A disposizione chiaramente per qualsiasi domanda, vi rinnovo la possibilità di acquistare tramite il link che ti lascio in descrizione. Per il momento è tutto io vi aspetto al prossimo video.